Tutte le classi seconde della nostra squadra si stanno impegnando a creare dei modellini con gli standard di label energy, che sono come delle specie di label, come in questo caso un'auto che va a pannelli solari, quindi prende la luce del sole, che trasforma in l'energia per far andare a livello. Invece in questo caso troviamo un bulino che va a energia eolica. Invece qua facciamo vedere le macchine che dipende le scusazioni che formano l'acqua e l'acqua. Invece qua abbiamo una panneolica e il suo compito è quello di prendere energia sfruttando un momento nei dati. Ma non è tutto e prendere le scuole che si deve essere rispottabile. Grazie per la visione!